andiamo a Evopoli Evopoli il cacchio, a Mineropoli andiamo a trovare il capo-vestra apogliamo questi oggettini qua dobbiamo catturare un pokémon arco però un pokémon arco con gli intorni buono no, questo è un cool vogliamo un buizel iscriviti al nostro canale come se si fa catturare? esatto, un per lui c'è la confusione un bel attacco d'ala e l'one shottea ok poi esco solo in Geodude c'è un belonics strommet sia ma non ti ne ha detto che non è andato Questa è uno sbaglio, c'era uno che voleva dire Geo No, non era qua Ok, non è qua Lui Una cura buona Vediamo se riusciamo a battere la palestra Ah, è confusione di questi tasti E' una mossa lotta Ottimo Dobbiamo di ottenere provocazione Dobbiamo aggiornare la grafica del Pokémon Allora togliamo Chimichage E ci mettiamo Questo bel inferno Un po' troppo grande Ok, forse così È meglio Sì Sì se me io curarlo vediamo un po' che si può fare non lo cambiamo il polvo il vito rocci non ci fa problema stridio può essere un problema per questo cranidos liscio come l'olio sfugliate non ci serve fino a qui tutto bene non ci serve non ci serve non ci serve ovviamente una roccia che impara a spaccare rocce mi sembra giusto niente ci serve questa bella roccia ok flash ma lì ci sono andate solo con la bici però qua una grande perla ce la prendiamo così amaro amaro carino, però non ci sembra a bell'occhio è arrivato l'eroe e poi un paio di pugno rapido vediamo wow che scoperta sensazionale il 90% di pokemon si evolve non lo dite a ultime galassie bella scatola chic in un'altra sezione sarebbe il mio pokemon elettro per il team probabilmente altro per questo qua li andiamo un po starli mettiamo il posto di scimmie questo non era previsto però easy questo che c'è magicar che anche non è male qua non ci esce un bel no se pass quanto guarda timido in pratica quello dice non allenate solo lo starter lo più ultimo può servire, può servire, può servire, può servire, che non ci interessa è che ci si può che manco le 8 oh che paura che bello che bello sterivia aggiorniamo sempre la grafica togliamo sterli mettiamo sterli via ok 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 portanto il problema è dove ho messo ecco qua bu to big ma piccolino ok così dovrebbe andare bene possiamo proseguire tagliano ce l'abbiamo un bel duo un bel doppio team qua e un bel braciere qui facciamo un bel attacco d'ala e braciere facciamo lo stesso di qua semitraglia o che bello giardino ferito questo sbaglio si può prendere il miele dobbiamo prima andare nella centrale se qua ci veste ma non ci interessa un bel bacastagno a a a a a a e possiamo trovare il pò con acqua per il team e non riusciamo a entrare nell'erba e infatti la teccola è una poche buizze il pallone maridonnola nessun soprannome andiamo a curarlo ma siamo questo glameo mezzo ai fiori quindi in seconda e mezzo ai fiori è lì però alleniamo un po' questo buizze ma non c'è via niente sono il friaggio porca miseria si è nervosito si si è in vantaggio guarda qua guarda il vantaggio è una momiglia non ci scordiamo wizard nella grafica grazie a tutti porca miseria stanno tenevo nervoso questo è uno sbaglio forte è tipo urgole mettiamo questa regia un paio di attacchi da mettiamo un buizel ci potremmo stare via per ridurre l'attacco ok non ci interessa è morto non fa niente adesso un pugno rapido è morto 60 speciale attacco fisico speciale non ci serve un attacco speciale proviamo provocazione grazie a tutti grazie a tutti la luce possiamo salvare e ci vediamo alla prossima ciao